Un saluto da Edes Software. In questo video, che fa parte della serie dedicata al modulo ECS, vedremo come modellare ed analizzare una struttura come quella che vediamo in anteprima, composta da tre archi che si impostano su quattro colonne. Per farlo abbiamo definito un'altezza del piano 1 pari a 7 metri e abbiamo inserito delle sezioni rettangolari di dimensione 1000x1000 e 1500x1000. Procediamo con l'inserimento della prima colonna. Sarà una colonna con materiale muratura esistente e sezione 1500x1000. La inseriamo nel punto di coordinate 00, definendo un angolo di rotazione pari a 0. Inseriamo quindi il primo arco, definendo questo come punto iniziale e un punto finale tale che la luce sia pari a 5 metri. A questo punto ci portiamo nella finestra 3D e completiamo la modellazione agendo sulla proprietà dei due elementi. Per quanto riguarda la colonna, che ha un'altezza pari al piano di riferimento, dobbiamo definire un ΔH pari a meno 4, in modo da avere un'imposta per l'arco ad una quota di 3 metri. Selezioniamo l'arco e definiamo l'altezza d'imposta pari a 3 metri. Il valore della freccia sarà 2,5 metri. E la profondità 1 metro. Per quest'arco scegliamo la modellazione blocchi e giunti, con una lunghezza dei blocchi pari a 0.8 e uno spessore dei giunti pari a 20 mm. Infine, definiamo la presenza del rinfianco con una profondità pari a 1 metro. Bene, possiamo passare all'inserimento della colonna che rappresenta l'imposta dell'arco a destra. Questa volta la colonna avrà materiale muratura esistente, ma una sezione pari a 1000x1000. La inseriamo aiutandoci dal disegno dell'imposta. Anche questa colonna ha un ΔH pari a meno 4. A questo punto possiamo sfruttare il comando copia e andare a realizzare gli altri due archi, definendo il vettore di spostamento. Ripetiamo l'operazione per il terzo arco. L'ultima colonna deve avere una sezione pari alla prima, quindi eliminiamo questa colonna e la definiamo copiandola dalla prima. Bene, per queste colonne vogliamo una suddivisione in conci, quindi le selezioniamo, attiviamo la suddivisione in conci, con una lunghezza dei conci pari a 0,5. L'anteprima della suddivisione è visibile solo nel caso in cui si attiva l'anteprima della struttura. In caso contrario non sono visibili i conci. Bene, possiamo completare la modellazione inserendo la parte superiore delle due colonne esterne. Per farlo andiamo ad inserire una colonna con una sezione 1000x1000. Lo inseriamo in un punto qualsiasi per ora. Per questa colonna dobbiamo definire una quota pari a 3 metri, che è la sommità della colonna inferiore. Mentre il delta H va bene che rimanga a 0 perché vogliamo che si porti al livello dell'orizzontamento dell'arco. A questo punto agendo con il comando sposta posizioniamo la colonna nel punto desiderato. E con il comando copia la copiamo anche dall'altra parte. Bene, fatto questo possiamo procedere con la creazione del modello strutturale. Bene, creato il modello strutturale possiamo approfondire come avvenga il collegamento tra i vari elementi. Per farlo ci portiamo nella vista per superfici e facciamo uno zoom nella zona dell'imposta dell'arco. Notiamo la presenza di un link che collega il nodo di imposta con il nodo della colonna posto alla sua stessa quota. Un altro link collega i due nodi estremi delle due colonne sovrapposte. Mentre un terzo link collega l'orizzontamento dell'arco con il nodo alla sommità del sistema di colonne adiacente. Questo link in alcuni casi può essere superfluo. è il caso delle due colonne centrali che si fermano a livello della quota d'imposta degli archi. In questo caso il link che è stato creato tra l'orizzontamento e il nodo di sommità della colonna deve essere eliminato. Per farlo disattiviamo la visualizzazione per superfici e selezioniamo il link da eliminare eliminandolo. Ripetiamo l'operazione anche dall'altra parte. Bene. ritorniamo quindi alla visualizzazione dei solidi e disattiviamo quella dei nodi. Prima di procedere all'analisi ricordiamoci di eliminare la rigidezza del livello 1 perché non vogliamo che ci sia un nodo master e andiamo nei parametri di calcolo per stabilire le analisi da eseguire. Decidiamo di eseguire un'analisi statica lineare non sismica e un'analisi pushover con un incremento del taglio alla base di 5 kN e distribuzioni B ed E. Prima di proseguire all'analisi selezioniamo tutti i conci che costituiscono le colonne e disattiviamo la verifica a taglio in modo che la verifica sia soltanto quella per pressoflessione o per lo sforzo normale di trazione. Bene, fatto questo eseguiamo l'analisi. Una volta eseguita l'analisi ci portiamo nella vista frontale per analizzarne meglio i risultati. Per quanto riguarda l'analisi modale attiviamo la visualizzazione della deformata e delle masse generate poi agendo sulla scala degli spostamenti apprezziamo la forma del modo di vibrare corrente. In questo caso si tratta del modo fondamentale nella direzione X con una massa partecipante del 77.7% e un periodo di 0,18 secondi. Spostiamoci ora nei risultati dell'analisi statica non sismica. Qui è possibile apprezzare la posizione della curva delle pressioni sia negli elementi che costituiscono gli archi sia nei conci dei pilastri. Notiamo che per i due archi esterni la curva delle pressioni fuoriesce leggermente a livello della chiave. Questo nel caso di resistenza a trazione nulla per i giunti rappresenta una trazione eccessiva. Spostandoci ora nell'analisi statica non lineare notiamo come al primo passo della curva pushover la curva delle pressioni sia rientrata. Questo perché l'analisi di gravità che viene effettuata al primo passo dell'analisi pushover ricerca una configurazione equilibrata sotto i carichi statici. In questo caso è stata trovata agendo sui vincoli dei giunti e quindi la curva delle pressioni è rientrata. Andando avanti con l'analisi incrementale notiamo che via via si formano delle cerniere negli archi fino ad un punto in cui la curva delle pressioni nei pilastri si avvicina sempre di più al bordo della sezione. Arriverà a un punto in cui la curva delle pressioni fuoriesce e questo segna la fine della curva di capacità della struttura che raggiunge una forza massima di 190 kN con uno spostamento di 2 mm. Per quanto riguarda invece la distribuzione E abbiamo ad un certo punto una notevole diminuzione della rigidezza della struttura. questo coincide con la formazione di una cerniera alla base della colonna destra ma in questo caso la struttura ha ancora una certa capacità prosegue fino a raggiungere una forza massima di 250 kN con uno spostamento di 4,28 mm. Bene con questo abbiamo concluso vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video